Buonasera a tutti abbiamo chiesto a Luigi Ballerini che state vedendo in video e che è collegato da Milano di aiutarci a rispondere ad alcune domande che come genitori ma anche come insegnanti ci sono nati in questo periodo dal 23 febbraio lo sappiamo bene abbiamo dovuto sospendere la scuola in presenza è cominciata un'attività didattica a distanza e abbiamo scoperto tante cose in un incontro che i nostri studenti hanno fatto con Zuppi con il nostro arcivescovo sono emesse delle domande bellissime che forse sono l'eredità il patrimonio più bello di questo periodo e i ragazzi lì hanno detto di aver aperto gli occhi perché si sono accorti di qualcosa di cui non si erano mai accorti prima e Marco se fai vedere il video che hanno preparato mi sembra faccia capire la prima grande cosa che abbiamo scoperto cioè che siamo tutti sulla stessa barca e che dobbiamo aprire gli occhi perché comunque la nostra vita fa parte della vita degli altri la vita degli altri fa parte della nostra vita ehi ciao ehi ciao ehi ciao è arrivato il momento di aprire gli occhi io non so parlare d'amore aiutiamo chi ha bisogno non anche tu una piccola somma la banca di Bologna ci aiuterà a farlo raddoppiando il ricavato tutti i fondi saranno devoluti alla scuola di madre Teresa e al banco di solidarietà aiutiamoci insieme donate anche voi donate anche tu aiutiamoci insieme diamoci una mano aiutiamoci aiuta anche tu le famiglie più bisognose aiutaci anche tu donate anche voi e aiutate queste famiglie in difficoltà grazie è successo così che dopo due giorni dall'incontro con Dupi alcuni ragazzi mi hanno cercato e mi hanno detto facciamo qualcosa per aiutare chi in questo momento è in difficoltà perché non possiamo aspettare che sempre altri a muoversi siamo tutti sulla stessa barca che era la cosa che ha detto il Papa il 26 marzo nella preghiera che ha fatto in Piazza San Pietro quando eravamo ancora in piena emergenza del coronavirus Luigi Ballerini per chi non lo conosce è uno psicanalista, editorialista, scrittore è una persona molto creativa recentemente ha curato il lancio di un nuovo cartone animato è scrittore per adolescenti ma anche per adulti il 21 maggio uscirà un suo libro che poi ci presenterà perché lo abbiamo disturbato? perché il suo sguardo ci ha sempre aiutato a capire come guardare i nostri figli e i nostri studenti io ho due o tre domande che sono arrivate te le farei all'inizio e poi è possibile prenotarsi alzando la mano come fanno i nostri studenti quando fanno lezioni su Zoom e quindi poi è possibile anche continuare a fare domande in diretta anche reagendo a quello che tu ci dirai la domanda è molto bella se in un primo momento forse grazie al clima di novità che si respirava e soprattutto perché nessuno della famiglia era colpito direttamente dal dramma del Covid i nostri figli si sono messi a lavoro senza troppa insistenza anzi erano molto contenti di aprire il collegamento per stare con gli amici, per seguire i prof poi con il passare delle settimane la situazione è molto cambiata i ragazzi sono stanchi e noi genitori ci siamo ritrovati a fare un sacco di mestieri tutor pomeridiani, vigili, carcerieri, sergenti, consolatori sempre a rincorrere i nostri figli perché seguono, perché studino, perché si lavino perché si mettono in ordine perché non si distraggono, perché facciano il loro dovere il risultato a volte è una grande frustrazione ed esasperazione anche perché spesso non vediamo dei risultati ci può aiutare a mettere a fuoco quale sia il ruolo dei genitori in questo momento come possiamo aiutare i nostri figli senza impazzire e poi qui c'è una domanda molto carina come mantenere la distanza giusta dai figli in una così stretta e forzata vicinanza Caspita, che domanda complessa Allora, buonasera a tutti Devo correggerti Elena non mi avete disturbato non potete disturbarmi nel senso che sono molto legato alla vostra scuola e la stimo profondamente per cui è per me una bella occasione essere qua è proprio un piacere per cui sono proprio contento Allora, domanda difficile domanda che parla anche di una certa evoluzione che c'è stata cioè all'inizio all'inizio forse c'è stato anche un po' un po' l'entusiasmo poi l'entusiasmo è venuto a scemare Allora, da dove partire? Io direi i ragazzi i ragazzi si sono trovati in una condizione assolutamente nuova che non era di vacanza perché la vacanza è se sparisce la scuola ma poi c'è il resto invece assieme alla scuola è sparito il calcio il basket, la chitarra, la batteria gli amici, l'aperitivo il giro in bicicletta è sparito tutto quindi se all'inizio c'è stata un po' l'illusione di vacanza poi abbiamo visto che questa non era una vacanza quindi c'è stato un po' questo elemento Gli adulti si sono presi delle responsabilità molto gravi e io non credo che chi se l'è presa abbia valutato a fondo perché se noi abbiamo titolato due mesi fa la prima pagina dei quotidiani la scuola è finita tutti i promossi allora chi ha deciso di fare questa scelta di far uscire articoli di questo tipo si è assunto una responsabilità che poi di fatto poi l'ha scaricata su tutti gli altri perché è vero che un ragazzo studia perché è motivato studia perché lo desidera studia perché vuole diventare grande studia perché è appassionato è anche vero che se poi mi dite la scuola è finita siamo promossi comunque caspita tenere bene sulla motivazione sulla costanza diventa più difficile per cui abbiamo buttato noi i ragazzi dentro una situazione che ha reso più difficile l'imparare c'è stato poi ora io non so come non ci siamo parlati non so come sia andato da voi ma non è stato facile per i genitori e per la scuola capire bene come muoversi uno abbiamo dovuto tutti arrangiarci improvvisare ci siamo trovati in una situazione completamente nuova c'è un rischio secondo me che noi genitori abbiamo fatto ed è stato quello di chiedere o pretendere che la scuola replicasse esattamente a distanza la stessa modalità e la stessa presenza che assicurava con la scuola presenza ora questo non è possibile questo non si riesce intendo dire da una parte noi genitori ci aspettavamo che ci fosse scuola scuola uguale scuola comunque ma questa scuola è vissuta in un modo diverso ha creato situazioni nuove la distanza ha creato bisogni dei bisogni nuovi quindi può essersi stato anche un po' questo scollamento i genitori si sono trovati a fare quello che abbiamo chiamato smart working che però in realtà è tanto working e poco smart perché di fatto non è mica questa è la condizione di uno smart working se ho i miei figli che girano abbiamo un computer da dividere in tre abbiamo una connessione che ci fa cadere la linea devo tenere bada ad altre cose caspita soprattutto per le donne è stato difficilissimo ma anche per gli uomini anche per i papà abbiamo faticato a capire la fatica degli insegnanti perché gli insegnanti stessi spesso sono genitori e gli insegnanti stessi si sono trovati nella stessa condizione per cui mentre l'insegnante di mio figlio stava occupando il tempo e si dedicava a mio figlio magari non c'era nessuno che dedicava il tempo e si occupava di suo figlio per cui di fatto certe pretese di uno svolgimento esattamente identico erano davvero irrealistiche quindi tutto questo cosa ha fatto si è unito a una convivenza forzata si è unito a una convivenza forzata che è stata forzata ora è vero che non è stato sempre per tutti così tremendo poi magari ce lo racconteremo ma io ho raccolto anche esperienze positive dalle famiglie mi hanno raccontato di inaspettate riscoperte di fratellanze e sorellanze fratelli che non si parlavano più non si filavano più di colpo hanno riscoperto magari anche delle complicità insieme l'occasione di stare pranzo e cena insieme ma non ce l'abbiamo quasi mai avuta ma neanche in vacanza si fa così che ci si siede a pranzo e a cena tutti insieme a mangiare per molti è stata la riscoperta della possibilità di tornare a parlarsi di raccontarsi di gesti di attenzione reciproca che magari nella fretta della quotidianità nella distrazione del ritmo di vita che avevamo prima dimenticavamo o lesinavamo un pochettino quindi ci sono state anche esperienze positive di riscoperta certo che in molte situazioni la vita è stata tesa la vita è tuttora tesa nonostante la parziale riapertura e noi genitori ci siamo trovati in questo ruolo cioè da una parte anche con un'inversione se ci pensiamo di paradigma nel senso quattro mesi fa avremmo fatto un incontro dicendo i ragazzi stanno troppo attaccati allo schermo troppo attaccati al cellulare dobbiamo staccarli adesso il problema è non si connettono con la scuola non lo fanno e allora abbiamo invertito anche il paradigma attaccati stai collegati stai davanti allo schermo che prima dicevamo di non stare per cui si è creata anche una situazione nuova anche parzialmente contraddittoria però quello che desito nella domanda è vero quello che desito nella domanda sta accadendo i ragazzi sono più stani beh maggio è sempre un mese difficilissimo per la scuola per cui a maggio si arriva sempre stanchi si arriva sempre un po' con l'acqua alla gola quest'anno c'è anche una stanchezza da mezzo c'è anche una stanchezza da mezzo perché per quanto i miei prof sono bravi per quanto sono interessanti per quanto sono stimolanti non possiamo far finta che la scuola a distanza sia come la scuola a presenza perché la mia prof il mio prof se sono in classe basta quel colpo d'occhio che lui si accorge cioè il mio prof si accorge se io sono partito con la testa da un'altra parte a volte non ho neanche bisogno di riprendermi gli basta un'occhiata o le basta un'occhiata perché io mi riprenda ma così è uno sguardo impersonale cioè la mia prof sta guardando sembra che guardi me ma sta guardando nel vuoto sta guardando tutti non mi vede oppure fa fatica a vedermi lì in mezzo quindi questo surrogato di scuola che noi facciamo che è bellissimo che è grandioso perché ha permesso di continuare è più difficile è più difficile per gli insegnanti ed è più difficile per i ragazzi quindi io non mi stupisco che si siano un po' stufati che un po' mollino li abbiamo li abbiamo demotivati li abbiamo tolto tutto il resto li abbiamo dato un mezzo che è familiare ma non è familiare per questa cosa qui li abbiamo messo i genitori costantemente alle costole perché sarà anche bello stare insieme però anche noi siamo stufi dei nostri figli se noi siamo stufi dei nostri figli loro saranno stufi di noi cioè è abbastanza reciproca questa cosa può succedere quindi certo io non mi innanzitutto non mi scandalizzerei della fatica perché la fatica c'è ed è una fatica oggettiva e se facciamo questa fatica non è perché non siamo bravi non è perché non siamo capaci ma perché è una situazione faticosa ora dentro la situazione faticosa e dentro l'eccezionalità può darsi che ma un po' siamo già stati costretti a farlo abbiamo fatto magari un po' di deroga a certe regole no fisse che avevamo dato perché abbiamo visto che un pochino dobbiamo anche sopravvivere perché abbiamo visto che ad esempio il digitale può essere davvero per alcuni l'unico mezzo per restare in contatto con un fuori per garantire che ci sia ancora un fuori quindi io non mi scandalizzerei di questa fatica terrei presente che può essere il momento delle deroghe non starei troppo con il fiato sul collo sui ragazzi perché di fatto questo non li aiuta mai soprattutto in un momento così dove il rischio di esasperare i toni e di farli diventare insofferenti è davvero un rischio alto quindi andrei andrei leggero con quella con quella leggerezza educativa che segnala direi una leggerezza educativa che segnala come bisognerebbe fare che segnala come sarebbe opportuno e che cerca sempre di invitare piuttosto che imporre perché peraltro abbiamo anche un'età se poi arriviamo su quelli del liceo dove davvero poi un po' se la giocano loro Luiz scusa dimmi Elena c'è una domanda che c'era arrivata alcuni nostri figli in questa situazione in cui non potevano avere relazioni con i compagni soprattutto quando essendo in prima liceo si erano appena affacciati in prima liceo e hanno convintato e poi dopo si sono hanno dovuto interrompere delle relazioni appena nate ci sono chiusi totalmente in loro stessi e passano moltissimo tempo nella loro camera per fortuna c'è la scuola dice questa mamma che scandisce almeno le ore della mattina però c'è una domanda grande questa mancata socialità non costituisce una grave mancanza in un momento così formativo per i ragazzi soprattutto per chi ha fatto il cambio di livello dalle medie alle superiori il cambio è sempre un momento delicato dipende dai ragazzi io personalmente ho sempre sofferto tremendamente il cambio ordine di scuola per cui per me la prima elementare la prima media la prima superiore sono stati degli anni drammatici anni davvero drammatici dove poi sono sempre stato bravo a scuola e a studiare ma erano drammatici per la questione dei rapporti quindi io di solito passavo il primo anno a difendermi a capire chi mi voleva fare del male ero spaventatissimo quindi non ho nessuna difficoltà a capire che qualcuno che inizia abbia bisogno di tempo deve prendere un po' le misure deve prendere le misure con questi professori che hanno cambiato il passo deve prendere le misure con i compagni di classe deve prendere le misure con quelli grandi cioè io che sono un primino quelli di quinta hanno la barba hanno i baffi hanno la patente hanno le fidanzate fanno più cose di me votano io sono uno scricciolo magari sono anche 30 cm più basso per cui per alcuni è difficile questo inserimento e qua è stato bloccato poveretti hanno fatto qualche mese magari proprio nel momento in cui iniziava alzare la testa e a poter dire io con qualcuno caspita mi richiudi tutto allora certo che in una situazione così posso essere rientrato in una comfort zone e io ho dei ragazzi con cui sto parlando molti con cui parlo me lo stanno dicendo che mi dicono ma sai cosa ti dico ma io sto anche bene così della scuola c'ho il bello mi vengono a cercare vedo gli insegnanti non mi massacrano troppo con l'interrogazione e i compiti poi tanto sono promosso per cui c'è tutto il bello della scuola sto connesso solo con gli amici che mi piacciono quelli con cui giochiamo a Fortnite quelli con cui facciamo i videogiochi per il resto mi guardo le serie tv che mi piacciono ma chi mi ammazza ma chi mi porta più fuori da una situazione così per cui effettivamente qualcuno è entrato in una sorta di comfort zone quello su cui noi però non dobbiamo preoccuparci troppo insistere con la preoccupazione è pensare che questo segnerà gravemente o definitivamente e che lascerà chissà quali buchi allora quello che dovremmo fare è favorire il più possibile la ripresa che ci sarà favorire il più possibile la ripresa che ci sarà vuol dire come dicevo prima non essere noi spaventati compatibilmente con le misure di sicurezza e con il buon senso laddove è possibile provare a farli rincontrare con qualcuno quindi pian pianino rompere il muro di solitudine sarà bene pensare l'estate ora lo so che l'estate pur essendo vicina sembra lontanissima perché chissà che cosa si può fare ma se ad esempio quest'estate riuscissimo a pensare per loro delle attività all'esterno delle attività con altri ragazzi ora potranno andare a fare una vacanza studio forse no ma magari potranno fare qualcosa di diverso potranno andare via con gli scout potranno andare via con un gruppo potranno andare via con la squadra auguriamocelo ma dove è possibile vediamo di favorire anche questi luoghi questi momenti queste persone queste possibilità di socialità che possano rompere un po' questo bozzolo in cui effettivamente posso esserci stato dentro un po' comodamente però di nuovo siccome la realtà è bella e siccome la realtà è positiva e siccome la realtà è affascinante e la realtà dei rapporti è quella che è vera è quella che conta partiamo con questa speranza certa che laddove la bellezza dei rapporti riprende questo fascino sarà convincente quando non lo sarà dovremo di nuovo inventarci qualche cosa e magari aiutarci anche con la scuola con gli insegnanti con le altre famiglie e capire cosa possiamo fare ok Marco c'è una domanda a cui mi piacerebbe rispondere parla di una ragazza di 13 anni che ha iniziato a mangiare un po' di più per noi ha preso un pochino di peso ma niente di grave ma prova disagio come posso affrontare l'argomento senza toncare la sua sensibilità allora questa è un esempio di una domanda già ben posta già porre la domanda in questo modo è testimonia di una delicatezza e una e un'accortezza che che aiuteranno ad affrontare la situazione allora molti hanno preso peso in questa clausura tant'è vero che l'hashtag corretto non è andrà tutto bene ma è andrà tutto stretto cioè è molto più probabile che sia questo per cui perché perché abbiamo preso peso abbiamo preso peso perché perché si può mangiare per noia perché perché a volte si mangia senza fame perché è consolatorio perché perché dà un da un piacere momentaneo perché quello pezzettino tavoletta di cioccolata mi fa temporaneamente stare bene allora visto che però stiamo parlando di una questione temporanea direi a questa mamma di andare molto leggera e di non creare il problema quindi andare molto leggera perché rischio che in questo momento poi potremo fissarla allora l'aiuto è a non avere una dispensa come dico io obesogena certo che la dispensa obesogena è un problema per cui se la spesa in casa la fa ancora lei lavori un po' sulla spesa quindi un po' dietro le quinte un po' dietro le quinte confidando che la ripresa di un'alimentazione normale del moto perché anche questa cosa qua che siamo chiusi in casa mangiamo e non ci muoviamo allora ci tenevo a rispondere a questa mamma proprio perché non venga fatto in questo momento l'errore di accendere troppo il riflettore su questa questione conviene andare davvero morbidi di nuovo guardarlo sapere che c'è questo magari cucinare in un modo diverso ma lavorare a distanza perché porre la questione in modo troppo deciso c'è c'è il rischio di creare un problema che magari non c'è ancora e fissarlo un po' lì quindi bella questa questione di non toccare la sua sensibilità soprattutto che nessuno fa azzardi a fare una battuta sul fatto che è diventata un po' più cicciottella cioè su questo no perché poi c'è la 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 nonna i cosi che magari anche ecco cioè non è un oggetto di certamente di così dibattuta ma forse neanche di dibattito posso fare un'ultima domanda che ci è arrivata prima dell'incontro di oggi e che secondo me racchiude tante richieste che che abbiamo che magari non abbiamo avuto neanche modo di esprimere durante la quarantena ha sempre campeggiato il motto andrà tutto bene no e i bambini piccoli ci credono andrà tutto bene poi magari qualcuno di loro ha cominciato anche a avere dei disturbi del sonno però insomma andrà tutto bene soprattutto quelli che avevano il giardino no puoi stare con i genitori così con i fratelli andrà tutto bene però con i grandi era difficile dire andrà tutto bene io ho quattro figli siamo stati insieme durante tutta la quarantena a un certo punto loro mi hanno vietato di accendere la televisione perché non volevano più vedere il bollettino dei morti il grande che fa l'università ha cominciato ad avere problemi di sonno sta da dio non ha avuto mai nessun problema e all'affermazione andrà tutto bene dicevano andrà tutto bene cosa se qui la gente perde il lavoro se ci sarà una catastrofe economica se il virus non morirà mai se cambia muta e ritorna fuori se dovremo sempre andare in giro a distanza ma noi come possiamo far capire che è vero che andrà tutto bene come possiamo far ritornare a avere fiducia nel futuro quando per giorni e giorni è stata instillata la paura il dubbio il sospetto è un senso di catastrofe galattica cioè neanche mondiale no? la guerra stellare non per banalizzare no 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 però sai Elena io c'è tanta sofferenza io sono moglie di un medico e ho visto che cos'è la sofferenza allo stesso tempo vedo che per i ragazzi non è semplice dire che bello andrà tutto bene anche perché si sentono dire a settembre l'università partirà in modo telematico non dicono proviamo a pensare cosa si potrà fare no tutti a distanza certo beh io sono io sono con i ragazzi sono d'accordo che non andrà tutto bene nel senso non andrà tutto bene lo trovo scorretto come è scorretto dire andrà tutto male io credo che sull'andrà tutto bene manca una particella che è un se cioè andrà tutto bene se nel senso che non c'è nulla di automatico ci sono nella vita ci sono sempre delle condizioni cui sottostare è da porre perché le cose vadano come no come come diriamo come come speriamo quindi l'errore che c'era nell'andrà tutto bene nel pensare una sorta di automatismo andrà tutto bene se e io mi sono chiesto qual è questo se io mi sono chiesto mi sono risposto andrà tutto bene se se faremo memoria di quello che abbiamo imparato ad esempio la scuola ha imparato che la scuola non è solo difatti qual è l'errore che non è un errore è corretto abbiamo fatto didattica a distanza ma la scuola non è la didattica intendo dire la scuola si accorta potentemente del fattore umano si accorta che la scuola è presenza che la scuola è convocazione io mi sono accorto proprio in questi giorni che non si impara per comando si impara per vocazione si impara se c'è qualcuno che ti chiama che ti evoca che ti convoca che ti suscita che ti viene a cercare che ti trasmette qualcosa e ti interessa con quello che hai imparato quindi caspita andrà bene se la scuola farà questo tesoro certe scuole l'hanno capito bene altre ho l'impressione che che non l'hanno ancora capito perché io ho visto ancora delle scuole che mandano solo compiti a casa e video lezioni registrate allora questo non è fare scuola o almeno questo è forse fare didattica ma chissà se anche fare didattica allora la questione della presenza andrà bene se la scuola riuscirà a fare il tesoro di questo noi famiglie cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto che la famiglia non è un clan abbiamo scoperto che la famiglia non è un circolo chiuso abbiamo scoperto che la famiglia respira ha bisogno dell'apporto del fuori ha bisogno dell'altro abbiamo scoperto che i ragazzi hanno bisogno di rapporti coi coetanei abbiamo scoperto che i ragazzi non bastano mamma e papà abbiamo scoperto che i ragazzi hanno bisogno di altri adulti di cui fidarsi e conquistare l'allenatore, il professore, la preside, l'educatore, il catechista, il capo scout, quello che volete, l'amico di famiglia, il parente. I ragazzi si sono accorti che noi non bastiamo loro e i ragazzi si sono accorti che noi adulti abbiamo bisogno di avere altri rapporti, che anche noi adulti abbiamo bisogno di uscire, che abbiamo bisogno di avere una nostra vita, di rapporti, di relazioni, di interessi, di passioni. Non è stato bello neanche per loro vederci chiusi in casa, ma non solo perché lì abbiamo soffocati e ci soffocavamo a vicenda qualche volta, ma anche proprio perché la vita della famiglia trae nutrimento all'esterno. Abbiamo scoperto che la casa è un luogo bellissimo, ma un luogo bellissimo dove tornare, ma per tornare bisogna uscire. E quando si esce si riporta dentro tutto quello di buono o di cattivo che c'è fuori perché possiamo parlarne insieme. Quindi anche in questo caso riusciremo a fare il tesoro di questo. Abbiamo scoperto che può esserci la solidarietà fra le persone. Tuttavia la solidarietà che abbiamo sperimentato è stata tendenzialmente emotiva. Perché io sono abbastanza, credo di essere, di pensare correttamente che il mio vicino di casa con cui ho cantato volare, no io no, abbiamo cantato volare sul balcone qualche settimana fa, tornerà a darmi fastidio perché sente la musica alta, perché il figlio gioca palla, perché il bambino piange di notte, sbaglia la raccolta differenziata. Cioè tornerà a darmi fastidio. Perché? Perché è stato emotivo. La solidarietà non nasce dalla presenza di un pericolo comune. La solidarietà non nasce da una minaccia che colpisce tutti. La solidarietà parte da un positivo. La solidarietà parte da un di più, non da un di meno. Non parte dalla difesa. Io a Natale ho fatto questa esperienza. Sono andato con la famiglia a Siviglia, atterrando con Ryanair. Per la prima volta ho sperimentato quattro aborti di atterraggio. Vuol dire che per quattro volte il pilota ha provato ad atterrare, ma per il vento non riusciva. Per fortuna il quinto tentativo, piuttosto che farci schiantare, ci ha portato a 500 km di distanza. Ora, il mio vicino di Sedile, che mi dava un po' fastidio perché si è tolto i piedi e puzzava, e mangiava che faceva schifo, e rideva come forse era mezzo ubriaco. A un certo punto, quando tutti abbiamo temuto di morire, e lui è iniziato con Madre di Dios, e l'altro ha detto un rosario, e poi mi ha fatto vedere la foto della figlia, io gli ho raccontato che mi è nata una nipotina, sembrava che fossero diventati amici. Poi cosa è successo? Siamo arrivati a 500 km di distanza, 400 persone di aereo, è arrivato un pullman solo per portarci a destinazione, e ci siamo uccisi per salire su quel pullman. Quindi, quell'atto di vicinanza che abbiamo provato, perché eravamo tutti nella minaccia di morire, si è svanito al sole. Ma quell'esperienza l'abbiamo fatta, che è stato più bello guardarci in quel modo lì. Allora, andrà tutto bene se ci ricorderemo, faremo memoria del fatto che abbiamo sperimentato un modo più umano di guardarci. Un modo più bello tra i vicini di casa, in famiglia, fra colleghi. Però, perché questo tenga, ci vuole un lavoro. Perché questo tenga, ci vuole il fare un passo in più. Ci vuole il trasformarlo come quel passo positivo del mio lavoro che vuole costruire, piuttosto che solo attendere una minaccia che ci costringa a chiuderci a riccio, a testugine, ma poi torneremo come prima. Quindi, cosa possiamo dire ragazzi? Ragazzi possiamo dire che possono contare su di noi. Questo possiamo dirglielo. Che noi abbiamo capito, abbiamo imparato certe cose e che cercheremmo di fare tesoro di questo e di sperimentare anche la bellezza che abbiamo vissuto per poterla ripetere. Quindi, che possano contare su di noi, che loro stessi ce lo ricordino e che loro stessi nei loro rapporti potranno cogliere quest'occasione straordinaria che abbiamo avuto, straordinaria anche proprio nel senso di fuori dall'ordinario, perché la ripresa ci veda non cambiati perché è accaduto qualcosa che ha mutato la nostra genetica, ma cambiati perché ci ha fatto vedere qualcosa come intravedere un orizzonte, ma noi poi dobbiamo lavorare per raggiungerlo. Ciascuno con i passi che decide di fare, con le esperienze che decide di fare e sui valori su cui decide di poggiare. Questa è una scelta squisitamente individuale. Perfetto. Una curiosità. Quali sono i cartoni animati che hai fatto quest'estate? Qual è il titolo del tuo libro? Allora, i cartoni animati sono una, i nostri figli sono grandi, è una serie animata che si intitola Meteo Heroes. Meteo Heroes sono per una fascia d'età 4-7, sono sei bambini che hanno poteri meteorologici. Sono stato contattato 5 anni fa da Epson Meteo che volevano fare un cartone animato sull'ecologia, sulla bellezza del creato, dell'ambiente e sul fatto che dobbiamo preservarlo e mi hanno dato carta bianca nel pensare e sviluppare i personaggi e le loro interazioni ed è stata un'esperienza bellissima. Sono andati in anteprima nazionale su Cartunito per il giorno della Terra e la prima stagione verrà trasmessa dal 29 di giugno su Cartunito ed è stata un'esperienza bellissima perché fare i cartoni animati è essere autore in un modo diverso rispetto a un romanzo, vuol dire essere sceneggiatore, cosa che io non sapevo fare, per cui ho dovuto imparare. Mentre invece il 21 maggio esce, ve lo faccio vedere, non l'ha ancora visto nessuno, abbiamo fatto solo oggi l'anteprima con i librai, esce Miras a tutto, la quarta di copertina, mi sembra ben scritta, è quanto siamo davvero liberi in un mondo iperconnesso? Allora Mira è un sistema operativo, è come Siri o come Alexa e l'ho pensato per i ragazzi dalla seconda media in su. La questione è quanto di noi, quanto noi adulti, ma quanto i ragazzi di sé espongono in rete, che conseguenze ha tutto questo, il rischio di manipolazione che abbiamo, l'accesso alla cultura. Adesso sento molti ragazzi che mi dicono questo non esiste perché non l'ho trovato su Google. È interessante perché c'è tutto un problema su cui si dibatte. Chi decide che cosa convertire? I libri che non verranno digitalizzati o convertiti non esisteranno più. E allora c'è il gatekeeper, quello che decide, possiamo davvero arrivare a far sì che possano sparire dei testi. Difatti questa è una società in cui è sparita la carta, è tutto digitalizzato, ci sono quattro ragazzi che fanno parte di un movimento di resistenza e l'atto di ribellione sarà tornare alla carta, perché la carta che in questo mondo è sparito non è tracciabile. C'è la carta come estremo atto di libertà, per cui se io voglio scrivere un messaggio per Elena Ugolini, se io lo metto in chat, lo scrivo, le mando una mail, il sistema operativo, che è questa intelligenza artificiale, nel terra traccia mi profila. Ma se le scrivo un bigliettino fra me e lei, lo leggerà solo lei. Non è solo sulla segretezza, ma sulla riscoperta della categoria della preferenza e sul fatto che non tutti devono sapere tutto di me, ma fra tutti gli uomini che stimo e comunque che rispetto ci saranno quelli che io preferisco, che avranno accesso a informazioni di me, che avranno solo loro, come con i nostri amori. Per cui è un romanzo distopico che affronta questa tematica. Quindi è un romanzo che tu hai pensato prima del coronavirus. Ho pensato prima del coronavirus. Adesso c'è tutta la questione, ad esempio, della tracciabilità. L'app sulla tracciabilità ci pone un problema. In realtà, sai, l'ho pensato perché non so quanti di noi si sono divertiti. A un certo punto su Facebook era venuto fuori questo gioco in cui dovevi mettere la tua foto di dieci anni prima. La tua foto di dieci anni fa e mettevi la foto di dieci anni fa e la foto di adesso. È stato interessante per me scoprire che questo è stato un grande esperimento sociale voluto dalla polizia cinese. Intendo dire la polizia cinese che ha già il riconoscimento facciale dei criminali, quindi ha il caschetto che riconosce in mezzo alla folla le facce dei criminali, aveva un problema che i criminali erano invecchiati rispetto alle foto dei database. Allora tutto il mondo si è prestato con questo giochino a istruire l'intelligenza artificiale su come invecchiano i tratti delle persone, come cambiano le facce. Lo stesso quando noi dobbiamo magari iscriverci a qualcosa, a un certo punto ti dice dimostrami che non sei un robot, segnami tutte le figure dove compare un semaforo o dove compare una bicicletta o dove compare... Allora noi inconsapevolmente stiamo insegnando all'intelligenza artificiale che guida le macchine senza guida umana a riconoscere pedoni, macchine, semafori, biciclette. Allora tutto questo noi lo facciamo inconsapevolmente, magari anche utile, magari no, ma ho iniziato a chiedermi ma quanto di quello che facciamo è davvero manipolato? E da questa idea è venuto fuori uno scenario distopico in cui questo è portato al massimo. Grazie Luigi. Io ringrazio tutti e spero di vedervi presto di persona. Vi invito ad andare sul sito perché c'è la pubblicazione del testo, del dialogo che Zuppi ha fatto con i nostri studenti. L'ho riletto anche oggi, è veramente un tesoro da scoprire, ma anche per noi, per le risposte che ha dato. Lunedì prossimo interverrà di nuovo su questi temi rispondendo a tante domande che sono nate alle persone in questi tre mesi, all'interno di un incontro organizzato dagli incontri esistenziali. Interverrà Zuppi, interverrà anche Julian Carron. Questo qui è un periodo in cui tanti hanno pensato, hanno avuto il tempo di riflettere ed è secondo me importante non perdere l'occasione per fare quello che diceva prima Ballerini, cioè capire come siamo cambiati e che cos'è che ci rende anche più umani, più capaci di rapporto. Noi stiamo lavorando per ricominciare alla grande a settembre, ma stiamo pensando anche qualcosa per l'estate, quindi speriamo che nella nostra regione ci sia la possibilità in piena sicurezza di poterci trovare a piccoli gruppi per delle attività anche durante l'estate. Appena avremo un quadro più sicuro, certo ci ritroveremo con i mezzi che ci sono consentiti e poi comunque faremo delle comunicazioni precise a tutte le famiglie. Vi ricordo anche che con il 5x1000 è possibile aiutare il fondo delle borse di studio con cui il 20% dei nostri studenti può frequentare la nostra scuola. L'iniziativa dei ragazzi, poi qui veramente finisco, per aiutare il Banco di Solidarietà e le suorine di Madre Teresa che aiutano famiglie che magari sono cadute in difficoltà proprio in questi mesi perché non hanno avuto lo stipendio e hanno perso il lavoro. Una responsabilità di tutti è di aiutare chi in questo momento non riesce. Ma basta poco, anche 4-5 euro. Banca di Bologna ci ha fatto questo regalo, raddoppierà l'importo che noi riusciremo a raccogliere. E anche il poco di tanti può fare moltissimo per persone che non riescono a fare la spesa. Questo è un messaggio molto semplice ma è un gesto che fa vedere anche che possiamo cambiare nel modo di concepire noi i nostri soldi e quello che facciamo. Grazie, grazie a Professor Ferrari che ha magnificamente guidato la regia di questo incontro. Buonanotte e a presto. Buonanotte.